Ciao bambini, oggi vi leggo gli Aristogatti. In una ricca casa di Parigi, Madame Adelaide vive con i suoi amicini, la bella duchessa e i piccoli Matisse Minou e Bizet. Il maggiordomo Edgar si prende cura di tutti loro. Oggi ci sono visite, è arrivato Giorgis Oatcourt, un caro amico di Madame. È un avvocato e la signora ha bisogno di lui perché vuole fare testamento. Oh oh, non sono più tanto agile di come quando avevo 80 anni. Ben arrivato, signore. Madame la sta aspettando. Salute, salute Edgar. Ta-ra-ra-bondi e... Tongue. Ha fatto centro, signore. Lei non sbaglia mai. Ah ah. Coraggio Edgar. Ti arrivo su un giro per l'ultimo un vecchio barbagianni. Non potremmo andare con l'ascensore oggi, signore. Eh, quella gabbia di polli fa un po' lucche. Gli ascensori sono per i vecchi. Oh, posso darle una mano, signore? Eh, mi prescia anche un piede, Edgar. Ha ha ha. Questa mi fa sempre ridere, signore. Ha ha. Tutte le volte. Ha. Molla il nuovo sole. Oh, attento, signore. Oh, la prego, mi dispiace terribilmente. Ah ah. Non fatti prenderli dal panico, Edgar. Andiamo dritti fino alla mezza. Iiii. Vado forse troppo veloce per te, Edgar. Oh, la prego, signore. La prego. Edgar ascolta di nascosto. Spera che madame lascia lui tutte le sue ricchezze. E invece... Io vengo dopo i gatti, esclama deluso. Il maggiordomo decide allora di far sparire i micetti. Prende del sonnifero. Lo mette nella cena dei gattini. Duchesse e i suoi cuccioli mangiano la crema senza farcersi di nulla. Anzi, invitano ad unirsi a loro anche Groviera. Un topolino molto, molto goloso. La notte, Edgar prende i gattini addormentati e li porta in campagna sulla sua motocicletta. Quando un temporale li sveglia, i micetti scoprono di essere stati abbandonati. Il giorno dopo, Duchesse e i suoi cuccioli incontrano un simpatico gattore andagio, di nome Romeo. Si offre gentilmente di accompagnarli fino a Parigi. Che arriva a Ciclittarum, ho fatto l'autostop. E fra c'è il jam per pezzo che c'è sto. Ma pure da emigrato. Mica so cambiato. Io so Romeo. La strada è lunga e quando arrivano in città è già buio. Minou, stanchissima, si fa portare da Romeo, ma anche gli altri non ce la fanno quasi più. Per fortuna Romeo conosce una soffitta abbandonata dove potranno riposare. Qui c'è pace e tranquillità, sta spiegando Romeo a Duchessa, ma viene interrotto da uno squillo di tromba. Affacciandosi alla finestra della soffitta, scopre che Scat Cat, un suo vecchio amico trombettista, è passato a trovarlo con la sua banda di musicisti jazz al completo. Addio pace. I jazzisti si scatenano e pestano così forti sul piano che sfondano il pavimento. Quando la festa finisce è ormai notte fonda. I piccoli vanno a dormire, mentre Romeo e Duchessa restano a guardare la luna che illumina i tetti di Parigi. Il giorno dopo i gatti raggiungono la casa di Madame Adelaide. Minou, Matisse e Bizet corrono verso il cancello, miangolando più forti che possono. Purtroppo è proprio Edgar il primo a sentirli. Il maggiordomo afferra un sacco e cattura subito i micetti, per spedirli addirittura in Africa. Ecco però che Romeo entra in azione e presto arrivano anche Scat Cat e gli altri gatti randaggi. Tutti insieme attaccano il cattivo maggiordomo e liberano Duchessa e i gattini. Per Edgar non c'è scampo. I gatti lo rinchiudono in un baule e lo portano in giardino, dove un furgone in partenza per l'Africa è già pronto a caricarlo. Madame Adelaide è felicissima di rivedere i suoi micetti e anche di accogliere in famiglia il nuovo arrivato Romeo. Le brutte avventure sono finite e tutti sorridono contenti mettendosi in posa per una foto ricordo. Ciao, alla prossima lettura vi leggerò Mucca la riscossa. Mucca la riscossa. Mucca la riscossa. And not your nose While you sing your scales And your arpeggios